questo è il modo che non cagliate ripeto lo spazio ce l'hai il timer si sta tutto qui ti sta registrando pure? certo ok ce l'hai dato? si tiriamo 2 dai addirittura 9 8 chi va? 2 addirittura non ti fidi vabbè vabbè capisco guarda come mi hai messo davanti dai che mi danni io partirei con questa meravigliosissima carta e Gage Zedekamani ok va bene certo si molto relax prendo questa bellissima carta faccio il volo? si normalmente lo hai ok ok magari magari è fatto devi prendere Gage faccio bella fantasma cattivissimo cattivissimo va bene vai Ciro stai molto forte oggi hai pescato almeno un Marincis la partenza adesso stand by non manchi lungo e freddo dai cos'è che faccio? buttare giù un Marincis buttare e mandare dove ha cibi? esatto ok ok catena 1 catena 2 stesso target stesso target asci alzi ci prendiamo il tuffo questo è da cimitero a mano ma che bel deck mi è mancato proprio Marincis spazio nella zona plutale si angelo marino effetto si 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 non c'è il corpo di D non c'è il corpo di D no questa volta no perché la giochi si si terreno ti metto qua infanita che c'è la staffa duffo siccome controlla terreno speciale da te si pescardo si affetta si non c'è l'ho 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 stIA cavalluccio diventa uno cango da corallino effetto dell'enone effetto su scarto deve dare un'appulino si Tremolo qua la linea è BAMUT marcia la memoria, effetto terreno effetto suo poi vanno questa sono spompati i miei musti di 100 quando lei muore torna lei prosto di creazione di effetto automaticamente vabbè facciamo batto con chi è? 2100 su 2100 si lei cosa fa? 4500 è nulla gli attacchi in base ai musti marini questa è che tenere male vabbè 4500 attiverai il effetto di fare il 2 c'è questo che posso pensare di negarlo oppure no ok poi è rapido comunque fa di così e tu non puoi negarlo? si è unicata per tutto il centro del ghiacchiano non vedete la nulla va bene? nulla e distruggo e prendo prendo il fettorano effetto rana si vabbè tu hai visto anche il mondo prima mano 4500? si e 1400 forse sono ancora vivo si è ancora vivo ai 1500 e e min 2 facciamo così effetto d'amici e ragazze e effetto terreno un'altra volta si puoi farlo? effetto terreno un'altra volta si ok non ho migliorato nessuna carta principessa vedo questa bellissima ascia ho cambiato scusa ok questo è un 4300 ma la terreno è no non è guance per tutto vai sei ancora vivo pesca 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 cosa di che c'ho queste che posso negare i mussi? che ti permetto di fare? spacco levo con una scarse effetto suo faccio effetto a nera dell'acqua con alta speciale a nulla effetto speciale a nulla effetto lo pago stessa? sì è di costo sì sì guarda queste carte le sono ma la tua concedi? la tua concedo sono partita proprio malissima cioè ero partita benissimo ma hai bloccato nelle zone proprio bella è che in prima mezzo ti hanno fatto male eh? ho visto sia bella che in prima mezzo sì quello che ho fatto male adesso mi vendico è un po' è un po' è un po'